Giocare col Buller, meglio non si per lui Tutto metto intorno alla cinquantica posizione Non ha preso patta le vittorie competizioni del circuito Buller Di Coppa del Mondo 2011 Non l'abbiamo visto molto bene Lo scorso weekend qui Arcon è la Prova Buller, ma le vogliono per il Gavattolo del Mondo E d'altro già c'è Rick Lashat Che sta giocando con le prede Scuola dell'Equadoro per Andres, Quinteros Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Inizio Alla finale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.